Ciao ragazzi, benvenuti in questa puntata di Sneakers Bar Oggi abbiamo l'angolo di Marco, le chicche di Marco che ha trovato un'app interessante per il mondo delle sneaker, giusto? Tinder delle sneaker No, vi permette di vedere come vi calza una sneaker come sta su di voi una sneaker con la realtà aumentata prima di acquistarla e poi vi dà dei link per acquistarla Insomma, non perdiamo tempo, andiamo subito a vedere quest'app che è ancora in beta testing, giusto? Fatta in Bielorussia Bielorussia, pronti partiamo, via, andiamo dentro l'app Allora, eccoci qua ragazzi, ecco l'app Rosina, giallina, azzurrina, Wannakix della app bielorussa sviluppata in beta testing Sto cercando di capire la scarpa di fondo ma non lo so Non si capisce, sarà una scarpa bielorussa Entriamo, entriamo nell'app e vediamo che ci permette di scegliere in quest'app che è un'app di realtà aumentata Riusciamo a vedere quindi come calzano le scarpe prima di acquistarle, giusto? Esattamente, abbiamo un po' di tutto Dalle Nike Le 270, le New Balance 574 Le Adidas di Rapt Le fantastiche Puma Suede classiche voglio provare Adidas Ultra Boost Classicone Under Armour Over Sonic Le Easy 350 Le V1 Le Vans, le classiche Sleep On Io mi fermerei l'Evans perché dopo ci sono le Litzky No, le Litzky? No ragazzi, le fantastiche Litzky LM17 bielorusse Sono le Adidas senza una striscia Sono definite le sneakers della due strisce Mi raccomando ragazzi, tutti a fare thumbs up per le Litzky in questo video Ci teniamo e magari Anzi se qualcuno le ha Magari sono comode Però vedo che è proprio un modello Quattro colori belli tra l'altro Un modello dell'altro E secondo me viano molti in Bielorussia Però Contatteremo questa azienda Sperando che ci mandi Una scarpa per fare un bel unboxing ragazzi A cosa serve questa app? Ad esempio noi siamo curiosi di queste Litzky Diciamo Vogliamo vedere come ci starebbero Via, 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 via la scarpa Quindi state o in calzino O con le Con i piedi nudo Le puntate verso i piedi E vedete ragazzi Che potete vedere come vi calza la scarpa La vedete In realtà aumentata Confrontarla con altre Meglio da Litzky Potete scegliere il colore ragazzi Vedete Potete scegliere anche un altro modello magari Andiamo su Oh Turtle Dove O le Pirate Black Per dirvi Le Under Armour Tu c'hai le rosse le Under Armour Marco? Le over? Eccole qua come calzano Adesso Ultra Boost Anche in versione bianca Direi ottimo Oh Fantastico Guarda come stanno bene Queste vedi A me piacciono tanto rosse Anche la suola Ecco Secondo me prende molto bene L'app Gira Gira Facci vedere la suola Prende molto bene il profilo No Qui stai crescendo tutto Perfetto Si vede anche la suola Ragazzi Che dire Volete provare Lady Rapt Ecco Lady Rapt Fam New Balance Insomma avete capito L'idea di quest'app Ma che belle Ma che belle Questa è così scarica Ma che belle Le 2,70 Belle Così un po' da donna Prendere così Le 2,70 Oppure così 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 fighe Così zarre Zarrissime Bene avete capito Se poi volete comprarle Qua Finding Store E vi permette di andare a vedere Su ebay Non abbiamo provato sti collegamenti Non comprarmi niente Potete andare a comprarle volendo Quest'app Che cosa fa anche Che vi rimanda Anche a un Suggerito Anche un'app Di Andiamo a vederlo Ve la fa vedere Un'app Dello stesso sviluppatore Quest'app Vi suggerisce anche un'altra app Per voi donne Che siete tipo Lo 0,001% Che ci guardate Sempre dello stesso sviluppatore Wanna Buy Wanna Buy È lo sviluppatore Sì però Wanna Buy Questo voglio comprare Vi suggerisce anche l'app Dov'è? Per le unghie Per le unghie Wanna Nails Potete provare le unghie Prima di farvele Scarichiamo anche Wanna Nails E Marco dopo vi farà anche Questa prova di Wanna Nails Vi farà questa prova Di Wanna Nails E Ale Vediamo cosa succede In quest'app Vabbè Rimaniamo sulle sneakers Marco Tanto che tu poi Adesso lasciamo Marco Che si farà tutte le sue unghie Niente Questo qui è l'angolo di Marco Curiosità di Marco E lui si scarica Queste Queste app Ragazzi Se vi interessa L'app si chiama Wanna Kicks By Marco Approved App bielorussa In beta testing Su Sneakers Bar Ciao ragazzi Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti